L'ultimo weekend di ottobre ha visto in scena una miriade di eventi. Il nostro tour itinerante parte dal Circolo Tennis Nadir, dove si è svolta la finale dei campionati regionali Under 18 maschili. Di fronte Gianmarco Crocetti, classe 96 del CT Michele Montani e Edoardo Zampolini, sempre classe 96, rappresentante del Circolo Magistrati della Corte dei Conti. A spuntarla in maniera netta è stato Crocetti, stato di un tennis più potente e almeno per ora parso più giocatore rispetto al pur bravo Zampolini. Il punteggio finale in favore di Crocetti è di 6-1-6-1.